Dove sono finiti? Sono nascosti in qualche tombino gli Ethers di Lautaro, quelli che lo chiamavano Verona Men o Salernita Men, un gruppo, devo dire, molto eterogeneo di persone, quelli del Seggirato Giroux, che però ultimamente girano su loro stessi perché non ci capiscono più niente ogni volta che devono raccogliere in rete l'ennesima pillola di Lautaro. Oppure, perché no, una parte anche per fortuna minoritaria della nostra tifoseria, quella del, come dico sempre, dei cagadubbi, Voldemort, moriremo tutti, che guarda caso alla fine del primo tempo della partita di sabato spopolava liberamente nel web bestiame dei social, convinta che senza i gol di Lautaro sarebbe proseguita la streccia di non vittorie in campionato. Per carità, nessuno mette in dubbio l'importanza di Lautaro nel gioco e nei risultati dell'Inter, però sa di fatto che il giocatore, fino a prova contraria, è stipendiato dall'Inter, per cui il fatto che ti faccia vincere le partite rientra nell'ordine delle cose. Oppure vogliamo creare un nuovo partito, dopo quello di maggio del se c'era Leao, o quello del se c'era Tomori di settembre, perché ho sentito dire da più parti che, se ci fosse stato Tomori, l'Inter non avrebbe avuto tutte quelle occasioni da gol. Come se Tomori ultimamente contro Lautaro si fosse trasformato in Beckenbauer. Adesso creiamo un nuovo partito, dopo quei due già citati adesso, del se non c'era Lautaro. Perfetto, complimenti, buon proseguimento di campionata a tutti.